VITAMOZUO gruppi telegram fissati nel primo commento come promesso di Independence Day ormai ieri è uscito il DLC del nuovo Independence Day abbiamo fatto anche una live abbiamo visto tutti quanti i componenti nuovi che ci sono perciò andiamo a creare un nuovo outfit allora requisiti ragazzuali sessione di inviti giusto per stare molto più tranquilli potete farla in qualsiasi sessione però la sessione di inviti giusto per stare tranquilli e dopo di che ci servirà qualche soldino ovviamente per acquistare gli outfit l'amico non è necessario perché possiamo utilizzare anche una pubblica per avviare ovviamente dopo a fare G allora entriamo in un qualsiasi negozio iniziamo subito partiamo subito dalle scarpe quindi dalla parte più bassa andiamo su scarpe andiamo su scarpe Arena War e andiamo a prendere le scarpe bianche e luci rosse 45 su 48 fantastica una sciccaria a questo punto ragazzuali andiamo su pantaloni andiamo su pantaloni andiamo a prendere i pantaloni chino ok quindi 7 su 17 e andiamo a selezionare poi il 51 su 68 perfetto a questo punto ragazzuali dobbiamo andare sulle parti superiori parti superiori andiamo su magliette e dobbiamo andare a selezionare le nuove magliette che sono uscite proprio oggi perché ovviamente fanno parte del DLC del Independence Day magliette andiamo a selezionare la maglietta smoking a righe allora per il momento mi sbaggo perché ovviamente facciamo tutti i procedimenti insieme quindi vado a togliere la maglietta e la vado a rimettere per poi spaggarmi perfetto a questo punto ragazzuali una volta cerchio e andiamo su giubbotti da lavoro andiamo a utilizzare giubbotto da lavoro pesca ovviamente per glitcharci quindi giubbotto da lavoro andiamo su giubbotto da lavoro pesca e lo andiamo a selezionare ok quindi mi raccomando giubbotto da lavoro pesca se no non vi esce bravissimi nada de nada a questo punto giubbotto protettivo pesca lo andiamo a selezionare per il momento andiamo a togliere il paracadute quindi accessori paracadute andiamo a levarlo perfetto andiamo anche a levare la parte delle maschere e tutta la parte della faccia perché al momento non ci serve perfetto quindi tutto quello che ovviamente non serve lo andiamo a levare a questo punto ragazzuali andiamo a salvare o sul primo o sull'ultimo slot mi raccomando primo o ultimo slot io vado a sovrascrivere quello che ovviamente ho fatto fino adesso a questo punto ragazzuali una volta cerchio e andiamo su completi tute mi raccomando completi tute chi ovviamente ha visto già altri video miei sa benissimo di che cosa parlo completi tute e andiamo a selezionare lo scienziato a questo punto ragazzuoli andiamo in un cannocchiale qualsiasi sulla mappa vi consiglio quello sulla spiaggia ok ragazzuoli una volta arrivati al cannocchiale andiamo verso il cannocchiale andiamo a premere freccia destra tenuto il touchpad mi raccomando andiamo su stile e andiamo a selezionare l'outfit che abbiamo appena creato perfetto a questo punto cerchio 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 e ci allontaniamo dal cannocchiale ragazzuoli andate a mettere tanto ve lo faccio vedere dopo anche i guanti bianchi da chirurgo bianchi lo trovate su guanti ok tanto dopo ve lo faccio vedere andiamo al negozio di maschere e andiamo a salvare il nostro outfit una volta arrivati al negozio di maschere andiamo nella sezione sempre qua delle magliette premiamo freccia destra e andiamo semplicemente a sovrascrivere l'outfit che abbiamo appena creato cerchio 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 e facciamo option online attività via attività andiamo su create da rockstar missioni e abbiamo un lavoro da titano ok ragazzuoli una volta arrivati in un lavoro da titano ci dobbiamo assicurare di avere la maschera dello scienziato e non avere il giubbotto protettivo pesca ok quindi mi raccomando assicurati di questa cosa perché se no non vi esce nada de nada a questo punto prendiamo un nostro veicolo o qualsiasi veicolo cittadino e ci dirigiamo in un ammunition qualsiasi sulla mappa ragazzuoli una volta arrivati all'ammunition entreremo dentro andiamo sulla parte dei completi freccia destra e andiamo semplicemente a sovrascrivere l'outfit che abbiamo appena creato perfetto una volta che abbiamo salvato cerchio 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 quittiamo l'attività ok ragazzuoli una volta rientrati in sessione andiamo verso l'ammunition dopodichè andiamo fate bene attenzione a questa parte sulla parte sinistra ok quindi non sulla destra vicino al frigorifero ma su parte sinistra proprio dove sono io premiamo freccia destra a questo punto dobbiamo andare su gilet indossare il gilet nero ok quindi indossate il gilet nero dopodichè una volta cerchio andate su camicia sotto gilet e andate a prendere il gilet rosso ok camicia con banda rossa andiamo a selezionarlo a questo punto cerchio 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 facciamo option online attività avvia attività andiamo su preferite andiamo su missioni e andiamo ad avviare affare g vi ricordo che affare g lo trovate sui gruppi telegram con il comando slash affare g i gruppi telegram ve li fisso sul primo commento ok ragazzone una volta arrivati nella lobby mi raccomando fate attenzione questa parte è molto importante andiamo su abbigliamento andiamo su completi salvati confermiamo le impostazioni e ci mettiamo su gioca in alternativa se non volete scaricare affare g potete utilizzare le attività della versus vi lascio ovviamente in descrizione il video per come mergiare gli outfit anche con la versus io utilizzo affare g ci mettiamo su gioca ok ragazzoni fate attenzione a questa parte allora se come me avete salvato sul primo slot fate una volta freccia destra se invece avete salvato sull'ultimo slot fate una volta freccia sinistra quindi ho fatto una volta freccia destra perché ho salvato sul primo slot e poi dopo di che mi metto su pronto a giocare ok ragazzoni una volta arrivati nell'attività di affare g non dovete fare nada de nada nel frattempo voglio ancora ringraziare affonso per la collaborazione nel video facciamo vedere il suo id psn in alto a sinistra un gg per alfonso una volta arrivati nell'attività ragazzoni dobbiamo semplicemente quittare l'attività ok ragazzoni una volta arrivati in sessione fate bene attenzione a questa parte prendiamo un veicolo nostro quello di un cittadino non è importante ci saliamo sopra andiamo con il touchpad andiamo su ceo quindi diventiamo ceo gestione stile una volta freccia a destra una volta freccia a sinistra cerchio 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 e premiamo triangolo per uscire come vedete ci ha glitchato la maglia insieme alla camicia a questo punto ci dirigiamo direttamente in un negozio qualsiasi sulla mappa ok ragazzoni a questo punto entriamo in un negozio qualsiasi sulla mappa andiamo prima di tutto a salvare il nostro outfit quindi perciò freccia a destra quadrato andiamo a salvare io vado a salvare sul primo slot ma voi potete salvare su qualsiasi slot a questo punto e vi faccio vedere dove trovare ovviamente gli occhiali del Independence Day quindi andiamo su occhiali casual andiamo su 97 su 119 ok quindi ok andiamo a prendere questo qua gli occhiali a stella le dovete acquistare ok quindi dopodiché andiamo a vedere anche i guanti come promesso quindi andiamo su guanti io ovviamente l'ho già acquistati sia i guanti che gli occhiali quindi non vado ad acquistarli e andiamo a prendere da chirurgo bianchi una volta acquistati ragazzuoli andate a pulire la vostra faccia quindi da qualsiasi accessorio mi raccomando quindi se avete acquistato i guanti o avete acquistato comunque gli occhiali andate a pulire la faccia ok dovete rimanere in questo modo a questo punto ragazzuoli andiamo verso il negozio di maschere ok ragazzuoli una volta arrivati nel negozio di maschere andiamo a prendere le maschere e il casco io ovviamente l'ho già anticipato per portarmi avanti quindi andiamo su maschere andiamo su maschere da sci come vedete abbiamo la maschera da sci ovviamente per il nostro completo perché Vitamod sceglie sempre le cose migliori per voi quindi maschera da sci aderente stelle a strisce perfetto quindi ottima a questo punto ragazzuoli andiamo su caschi e andiamo a selezionare il casco antiproiettile nero che su questo outfit a mio parere ci sta benissimo è ovvio che un casco bianco e un casco rosso ci stava ancora meglio però non possiamo avere tutto nella vita ovviamente no quindi casco antiproiettile andiamo a selezionare quello nero e ci sta benissimo ci sta anche bene se volete anche questo qua carbone o comunque il marroncino però secondo me il nero ci sta ancora meglio ok a questo punto ragazzi vale gli occhiali che abbiamo acquistato e li andiamo a glitchare al nostro al cannocchiale che c'è sulla spiaggia una volta arrivato al cannocchiale andiamo verso il cannocchiale premiamo freccia destra touchpad premuto se vi succede in questo modo come è successo a me nessun problem è arrivato Alfonso allora rifacciamo quindi andiamo verso il cannocchiale freccia destra touchpad premuto aspettiamo che si apre andiamo sul stile accessori andiamo su occhiali e andiamo a selezionare gli occhiali che abbiamo acquistato prima ok quindi queste qua occhiali a stelle cerchio 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 ci allontaniamo dal cannocchiale come vedete ci ha glitchiato ovviamente gli occhiali con la maschera eppure il casco andiamo sul touchpad andiamo su stile andiamo su paracadute andiamo a prendere il paracadute zaino usa che lo trovate in un ammunition qualsiasi sulla mappa a questo punto ragazzoli questo outfit ce lo andiamo a salvare al negozio di maschere bella per Alfonso bella andiamo a salvare il nostro outfit ok ragazzoli una volta arrivati al negozio di maschera andiamo sempre nella sezione qui delle magliette premiamo freccia destra e andiamo a salvare il nostro outfit ovviamente ragazzoli vi porterò altri outfit dedicati al 4 luglio per il momento da parte mia e da parte di Alfonso diamo tanti auguri per l'independence day per il 4 luglio ragazzoli io saluto ancora Alfonso ringrazio tantissimo per la collaborazione nel video ragazzoli vi è piaciuto questo video lasciate un bel like condividete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video bella grazie a tutti